Sempre Alberto Simoni qua su Builderol e adesso andiamo a vedere come andare a inserire la nostra casella di posta elettronica, il nostro indirizzo email appena costruito come nell'altro video, ha una sequenza di email quindi relativa a una campagna. Allora si clicca questa volta su mail in boss autoresponder che riguarda tutte le liste di campagne che uno ha creato, si clicca su lista e si vanno a vedere tutte e quante. Ad esempio se ne prende una qualsiasi, questa si chiama Buildpix, qua dove c'è scritto update si clicca sopra e qua in basso su advanced avanzate. Clicciamo sopra e fra le varie opzioni, proprio all'inizio quando si apre questa finestra, qua c'è scritto da quasi in fondo, from name, ci mettiamo il proprio nome e cognome e qui from email, da quale indirizzo email? Qui ci andiamo a copiare, a incollare meglio, l'indirizzo di email professionale che abbiamo prima costruito. Lo incolliamo qui sopra. Poi invece per le risposte possiamo mettere tranquillamente che ci venga risposto il nostro indirizzo di posta elettronica o primario, ad esempio il mio caso è quello con gmail. Però qui bisogna mettere assolutamente l'indirizzo email professionale. In questa maniera tutte le volte che succede che in pratica una email viene mandata direttamente da questo indirizzo creatosi all'interno della piattaforma e quindi la probabilità che i nostri messaggi vengano inviati nella spam folder, nella cartella di posta indesiderata, la probabilità è molto bassa e per la maggior parte delle volte arriveranno nella posta in arrivo del nostro contatto. Tutto semplice. Al prossimo video!